Tratto da una storia vera. Se verranno giorni duri... ...e ne verranno non mortare. Cuba Gooding Union. Primo palombaro di Marina. È quello il mio posto, signore. Robert De Niro. Attento a ciò che desideri. Per il ciclo un biglietto per Hollywood. Cambia la manichetta, adesso! Man of Honor. L'onore degli uomini. Martedì 21-25. Rete 4.